brawl stars day allora il grado non importa si ho fatto salire in Italia il grado 12 ma credo che già lo sapevate no non credo che lo sapevate ma comunque è il primo è un tank quindi ha un botto di vita un botto di attacco un botto di attacco con la super e ci scendiamo a fare una bella partita perchè voglio arrivare alle 650 coppe e spacchettarmi quella mega cassa con voi perchè se troviamo un bel brawler ci facciamo pure una bella partita e già la linea sta iniziando a darmi i problemi no il wifi io quanto odio quando il wifi mi rompe i coglioni allora è diventato roaldo è veramente forte perchè ha un bombardino anche se noi ce l'abbiamo però alcuni di voi dicono che non ce l'hanno bombardino ma ragazzi io non posso far vedere il trucco perchè non mi va però in questo brawl stars day credo che il secondo episodio lo porterò su questo glitch come ottenere questo bel questo bel bombardino gratuitamente no c'è un nita 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 no magari avessi la super caricata no per favore dai vivi vivi ma lui si uccide da solo vabbè terzi però non possiamo continuare con così poche coppe perchè altrimenti dai video diventeranno live questo questo coso andiamo allora andiamo e vabbè un frank raga un frank in partita non ci credo raga no raga raga abbiamo una partita con un frank no raga questa la vinciamo perchè raga frank con la super fa malissimo perchè raga voi non credo che lo sappiate ma frank con la super blocca qualunque cosa gli si mette davanti tipo voi se vi mettete davanti alla super di frank io non mi vorrei mai stare perchè mi immobilizza raga no fighissimo avere un frank in partita no raga io so contentissimo frank in partita frank in partita e il bello raga è che siamo due tank leone uccidiamo leone perchè sotto quella maschera di pocio c'era sicuramente non è successo niente il mio alleato è ancora vivo ok quel pocio è un pochino troppo forte quindi mi devi affrontarlo più tardi e con più tardi intendo adesso perchè il mio amico è nato e quindi eh vabbè non ci credo no non voglio morire non voglio morire non voglio morire no sono morto pure di nuovo terzo ma porca miseria oggi è la giornata dei terzi vabbè il primo è il grado 6 no lasciami stare facciamo un'altra partita con frank dai raga io adoro io adoro raga giocare con sto frank sembra che oggi il wifi non mi vuole bene no raga raga non dimmi che sono già morto sono appena morto giusto sono ancora vivo com'è fatto ad andare a spu una rinuncia a spuglio fico oh mio dio raga no 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 sono nel primo pacifico non sto scherzando sto scherzando come sciottiamoli vai frank non ci credo siamo morti siamo arrivati quinti meno quattro vediamo cosa dice frank no ah 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 gli abbiamo rifiutato il coso ok speriamo che sto coso ma raga non mi dici rifugio dici bombardino 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 piccolino ti massacro il culino c'è un terapeuta raga perché non lo sapete ma pam è un terapeuta cosa significa terapeuta? una persona che cura raga io resto qui e non mi muovo di un millimetro che non risponde il mio amico che ne ho andiamo e ragazzi io gli ho conservato il suo coso proprio perché so che lui sarebbe risponato io non sarei morto la raga ci sta mirando con la super l'ho visto raga e il primo oh il mio amico ha la super perché guardate se tiene questi cosi attorno al cerchio significa che ha la super caricata e quando diventa giallo significa che sta usando la super porca miseria no se mi devo fidare di lui non mi fido così tanto eh lo sapevo guardi un trofeo raga ho perso sette trofei una tara una tara no per gli altri pigliati sti cosi non mi interessa più raga c'è un tara un tara non è che adesso che c'è un tara siamo morti sicuramente dai c'è un tara non possiamo ma io come cazzo cazzo per morire porca puttana di nuovo quarti ragazzi io non ce la faccio ragazzi stiamo perdendo tutte quante le coppe è un problema ma basta con il wifi vai Grazie a tutti. Dai, almeno terzo. Cioè, ragazzi, il problema è guardate. Ah no, sono ancora sotto le 600 coppe. Fico. Ricordo che il nostro record era 606. Ragazzi, mi serve uno con tantissimo attacco. Parte il primo. Allora, ci andiamo a fare una partita con i bot. Per vedere come va con Bull. Perché, raga, ha paura. Perché non so usarlo, Bull. Andiamo, vai. L'importante è che arriviamo secondi e stiamo a posto. Allora, il danno ne fa tanto. Lento lo è, come il primo. E vita ne ha tanta. Tanta. Tanta vita. Ma con c'è, raga, quando c'è questa cosa? Non so. Secondo me, raga, significa che il primo si sta arrabbiando, quindi gli aumenta l'attacco forse. Io mi fido di cuore. Via Bull. Andiamo. Allora, va. Buona, va. Buona. 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 Buona buona. Buona buona buona. Buona buona buona. no raga c'è un leone c'è un genio per è morto quindi buono a sapersi raga però c'è secondo me raga rispona quel cazzo di cosa ragazzi ma perché vai per il gigante no raga perché ah no è solamente perché ha la super piccolo super no e dai raga se muovi se ho questo coglione barra cogliona non riesce a vivere io lo giuro raga io mi arrabbio perché ragazzi siamo già quarti e non vorrei arrivare quarti ma che siamo vivi vai poi 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 no raga non credo che si dovrebbe fidare di me di coglione barra cogliona no raga si deve fidare di me invece guarda raga no raga io sopravvivere ce la faccio però quando devo andare contro contro e non riesco a vivere scontro finale però piper è morta quindi questo potrebbe essere un problemino e via ho ucciso quello ucciso quello e spero sono morto lo stesso 5 raga 5 coppe non è male no per sbaglio ho rifiutato piper per sbaglio porca miseria volevo farmi un'altra partita con piper tanto no scusate non sono stato io giuro va bene cos'è assedio assedio ragazzi lo voglio provare cos'è raga sta nuova modalità reaction della nuova modalità e credo che sono pure l'unico a provare questa nuova modalità raga io ve lo giuro mi sono troppo abituato alla sopravvivenza uno robot robot voglio vedere cosa succede ai robot no raga ho paura perché non so cosa succede a chi ha più bulloni robot no eeeh va bene cos'è aiuto l'abbiamo ucciso andiamo ad ucciderli raga uccidiamoli no voglio un bullone pure io raga no questi qua hanno troppi bulloni non riusciremo mai a batterli vabbè meno male che in queste modalità non si perde coppe vero ma ragazzi uccidono in quattro secondi ma ragazzi uccidono in quattro secondi il wifi usiamo usiamo uccidiamoli uccidiamo 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 no raga dobbiamo ucciderli ucciso il vostro robottone ucciso pure una bella Pam peccato che Pam non aveva le cose per i bulloni uuuuuh vai uccidiamoli vai nooooo meno male che ho ancora la roba Ahah L'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso pure quello Eh raga non credo che riusciamo a sopravvivere Grazie del mio bullone Oigo Alleato livello 11 Nooo Volevo usare la super Per ucciderli Sarebbe stato fichissimo No per favore Non dimmi che si perdono trofei Ok non si perdono trofei Raga mi sto Mi sta venendo l'ansia Ok Io credo che in questa malità Serva più Mortis perché Perché serve proprio uno che scatta Per prendere i bulloni E che attacchi molto Perché Mortis è si veloce Ed è anche molto forte ad attaccare Però di vita non è il massimo Di vita non è il massimo Allora Ma raga non ci riusciamo No hanno già due cose Dobbiamo pigliarle pure noi Raga Vai Mortis Bola Mortis Da fighissimo Mortis Bola No robot Non è il livello 4 nemico No raga mi sbagliavo Dobbiamo prendere uno che sappia Gestire le situazioni Nel senso che abbia molta Ma molta Vita Vita Quindi io credo che sia perfetto il primo Però se non mi compaiono le pubblicità Fregati No volevo volare io 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 voglio volare Mortis Bola Fighissimo 4 No raga siamo a 4 4 Porca misera Lo volevo shuttare Devo far difendere il nostro bot Cidilo Vai robotone Figo No fighissimo Mortis Raga No Mortis Vola Mortis Vola No Sono vivo Ero vivo Mortis Mortis Vola Vola Oh no è un livello 14 Sto cosa Eh lo sapevo No raga distraetelo Dovete distrarlo Ma non c'è tempo Per distrarlo Perché abbiamo appena perso Come hai perduto trofei No raga No raga In questa maniera Si perdono pure i trofei Vabbè ragazzi Per questo episodio Ci saliamo Quiccione Buongiorno Grazie Grazie a tutti